Alle tante cose il covid ha ritardato anche la presentazione annuale del bilancio di Avis provinciale rispetto a come è andata insomma nel nel anno scorso. Siamo quest'oggi con Bruno Manzini vicepresidente dell'appunto Avis provinciale per chiedere appunto come è andato il 2019 quali sono i dati che sono emersi insomma dal bilancio che avete fatto. Vi potete dire soddisfatti? Sì sicuramente soddisfatti perché pur avendo avuto un assestamento diciamo del numero dei donatori dovuto però non a un reclutamento minore di nuovi donatori ma semplicemente alla pulitura del registro soci dovuto alla cancellazione dei donatori che da qualche anno non donavano ecco direi che 15 mila oltre 15 mila donatori in provincia di Lecco sono un numero eccellente. Consideriamo che la provincia di Lecco sono 340 mila abitanti. quindi insomma un numero che può far ben sperare anche rispetto all'incremento che avete registrato per l'anno scorso appunto mi raccontava che avete aumentato appunto dell'8% i donatori e le donatrici appunto sul territorio corretto? Diciamo che l'aumento sostanzioso si è verificato nelle donazioni di sangue. Donazioni 2018 un aumento superiore all'8% mentre quest'anno, quest'anno intendo dire 2019 c'è stato un assestamento però rispetto al 2017 abbiamo incrementato di oltre il 6% le donazioni. per buttarla in cifre presso i centri trasfusionali della provincia di Lecco sono state donate 28 mila oltre 28 mila unità di sangue. Se si pensa che i bisogni di sangue dal nostro territorio sono più o meno la metà questo dato parla da solo. Quindi insomma i cittadini e le cittadine sono generose da questo punto di vista anche rispetto alle necessità. Una curiosità, la cifra più o meno la media di età dei donatori e delle donatrici qual è? La media è sui 50 anni però c'è una buona componente anche di giovani. Sui 15 mila e oltre donatori circa 5 mila sono giovani al di sotto di 35 anni. Quindi anche questo è un dato confortante perché se si considera l'andamento demografico della popolazione non è così scontato che 5 mila giovani vengano regolarmente a donare il sangue. Sottolineo regolarmente perché non è un gesto una tantum, è un gesto che viene ripetuto ogni tre mesi. Quindi insomma soddisfazione da tutti i fronti. Venendo invece alle vicende più recenti che abbiamo visto e assistito, a cui abbiamo assistito un po' tutti. Quindi il periodo del lockdown, del covid, che bilancio possiamo fare? Sicuramente è presto insomma per dare delle cifre precise però che cosa ci si può aspettare dal bilancio del 2020? Noi ci aspettiamo risultati analoghi o leggermente inferiori perché ovviamente il periodo più duro della pandemia le donazioni sono diminuite. Sono diminuite non tanto perché i nostri donatori non andavano a donare ma perché si è ridotto il bisogno di sangue. Gli ospedali concentrati sulla cura agli ammalati di covid ovviamente hanno posticipato gli interventi chirurgici. Quindi se c'è un bisogno minore di sangue ovviamente dobbiamo anche convocare meno donatori perché il sangue non è una merce qualsiasi. Il sangue non può essere sprecato e sappiamo tutti che il sangue ha una scadenza. Dopo 40 giorni un sacco di sangue se non è utilizzata può essere buttata e questo non è corretto e non è nemmeno etico. Quindi donatori e donatrici a Lecco non mancano, mancano però persone che sono disposte a dedicare il loro tempo proprio per sostenere la struttura dell'Avis che comunque ha bisogno di braccia e menti per stare in piedi. Possiamo rivolgere un appello alla cittadinanza per farsi avanti anche non necessariamente contribuendo attraverso il sangue ma anche attraverso il tempo? Esatto. Noi abbiamo ovviamente bisogno di gente che dia una mano nella gestione dell'associazione ed è una gestione non semplicissima perché non sto a dilungarmi ma c'è bisogno di un lavoro continuo, di un impegno continuo in associazione. Donatori sangue ne abbiamo molti e siamo contenti. Se qualche persona che anche non potesse donare il sangue per qualsiasi motivo volesse donare tempo noi lo accogliamo a braccia aperte. Ci sono dei criteri particolari a cui bisogna sottostare per poter partecipare e se ci può dire a grandi linee quali sarebbero il contributo in termini di tempo, in che cosa consisterebbero le mansioni eventualmente? Dunque sono diverse modalità di impegno. Ad esempio i volontari che giornalmente si recano al centro trasfusionale per fare l'accoglienza ai donatori comportano un impegno minimo. cioè la cosa che viene richiesta è quello di avere una capacità di rapporto con le persone diciamo normale insomma, gentile, non so come dire, non so se mi sono spiegata. Quindi accogliente, forse è meglio dire accogliente. Questo per esempio è un esempio. Un altro esempio potrebbe essere anche il lavoro proprio amministrativo negli uffici perché abbiamo anche una impiegata però ovviamente le cose da fare sono molte e quindi se c'è qualcuno che volesse impegnarsi costantemente noi siamo ben disponibili di accoglierlo. Porte aperte quindi anche per chi non dona il sangue o vuole donare il sangue ma anche insomma offrire del tempo. Esatto. Bene, io le chiederei da ultimo, come dire, una domanda un po' più dettagliata rispetto a quelle che sono le norme e i cambiamenti che questo l'avvento insomma del virus ha comportato anche per quanto riguarda insomma le donazioni del sangue. Dunque, per quanto riguarda le donazioni, ripeto, non sono mai state interrotte perché qui a Lecco i nostri donatori hanno donato dal primo gennaio fino ad oggi regolarmente in minor numero ovviamente nel periodo duro della pandemia. C'è qualche problema perché dovendo rispettare le regole legate al contenimento della pandemia, quindi gli assembramenti, ovviamente dobbiamo calibrare in modo giusto o curato la convocazione dei donatori per evitare che affluiscano in massa al centro trasfusionale. Quindi non è tanto un problema di non far aspettare i donatori, anche quello se vogliamo, ma il problema è quello di rispettare le norme per evitare gli assembramenti. Quindi stiamo lavorando per cercare di mettere a punto una strategia che consenta questo risultato. Bene, allora io direi che siamo in chiusura. Ringraziamo il Vice Presidente Provinciale Bruno Manzini per i dati che ci ha fornito rispetto al 2019 e anche per i passi futuri da fare dell'Avis. Auguriamo quindi un buon lavoro.